Buonasera ragazzi, un piccolo short, sono appena arrivate le LTO, circa 26 pezzi se non ricordo male, così possiamo fare il tampone per i 60 volts, ne apriamo uno, vediamo se sono veramente le LTO, ma penso di sì perché vediamo già il bulloncino, sono arrivati in meno di due mesi, e sì, sono loro, questa volta le 26 am per ora, LTO, e quindi adesso faremo, c'è anche il suo bulloncino, faremo un bel tamponcino, lo proviamo sia sull'eolico che eventualmente sull'impianto fotovoltaico, come sempre, un saluto da Savio, a breve vedremo il video del test di questo banco, mi sa che posso arrivare fino a 62-65 volts, non ricordo bene, però adesso abbiamo celle per fare tutti i test, un saluto, e rimanete sintonizzati, LTO.